Da qualche anno stiamo assistendo ad una rapida evoluzione del mondo industriale. Termini come Industria 4.0 e Internet of Things stanno diventando di uso sempre più comune. La progressiva estensione di Internet al mondo degli oggetti permette di realizzare impianti automatizzati sempre più efficaci ed intelligenti. Le soluzioni di ABB Robotica sono parte integrante di questo mondo interconnesso. Dallo scorso maggio tutti i robot sono costruiti predisposti per essere collegati in modalità cablata o via wireless ai Connected Services di ABB. I Connected Services supervisionano il robot, analizzano il loro funzionamento, suggeriscono eventuali attività di manutenzione preventiva, segnalano i guasti e permettono la loro risoluzione attraverso una connessione da remoto. L'offerta dei Connected Services ABB comprende 5 differenti servizi, attivando un accordo di assistenza ABB RoboCare, è possibile personalizzare questi servizi sulla base delle specifiche esigenze di ciascun cliente o della singola linea di produzione, a partire dalla più facile supervisione delle singole macchine con la segnalazione dei guasti per arrivare all'analisi dell'intero parco installato e del suo stato di funzionamento. Questa caratteristica di modularità rende i Connected Services applicabili in qualunque processo di produzione e li rende appetibili sia alle piccole e medie industrie che alle multinazionali, con siti di produzione dislocati nelle più parti del mondo. I Connected Services ABB vengono forniti attraverso un'applicazione web chiamata MyRobot. Il pannello allarme di questa applicazione rende disponibili attraverso un'interfaccia grafica comune, sia al cliente che al nostro servizio di assistenza tecnica, tutta una serie di utili informazioni che permettono di individuare più facilmente gli allarmi più frequenti, propongono grafici sullo stato d'uso delle macchine e avvisi con funzionalità di notifica. Con queste tecnologie diagnostiche l'approccio tradizionalmente reattivo alla gestione del parco robot installato diventa un approccio molto più proattivo, predittivo ed immediato. Infatti, con i Connected Services è possibile pianificare attività di manutenzione preventiva sulla base del reale stato d'uso di ciascun robot ed è possibile definire piani di intervento programmatici per l'efficientamento delle linee di produzione. La maggiore disponibilità delle linee di produzione e la loro più tranquilla gestione offre ai nostri clienti la libertà di potersi concentrare maggiormente sulle loro attività quotidiane e sui loro core business.